Per avere una maggiore familiarità con questa lezione consiglio di guardare lezioni precedenti come quella sull'idolatria, la restaurazione del Vangelo ed il piano di salvezza. Ideale per avere un miglior approccio in questa parte rispondere sì a queste tre domande. Credi che Dio sia il nostro Padre Eterno? Credi che Gesù Cristo sia il figlio di Dio, il Salvatore e il Redentore del mondo? Chiedi anche questa terza domanda eventualmente a te stesso e controlla se la risposta è affermativa. Credi che la Chiesa e il Vangelo di Gesù Cristo siano stati restaurati tramite il profeta Joseph Smith? Quando si arriva a credere a questi tre punti è necessario continuare a sviluppare la fede in Gesù Cristo con lo studio del Vangelo, pentirsi e pregare per essere perdonato ai propri peccati, farsi battezzare per diventare membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e ricevere per lo Spirito Santo. Frequentare le riunioni domenicali in Chiesa è anche una parte importante della conversione. Uno dei problemi evidenti è proprio non riuscire a risolvere un problema personale in termini spirituali, cioè la classica o la cosiddetta debolezza fra tutti i comandamenti che si osservano. Una panoramica generale sui comandamenti può essere data ricordandosi dei dieci comandamenti di Mosè e dei due grandi comandamenti. Inoltre esistono altri due comandamenti importanti rivelati da Joseph Smith. La parola di saggezza, cioè il comandamento di non fumare, bere bevande calde come il tè e il caffè, di non bere alcolici, di non usare droghe e non eccedere con i cibi. L'altro comandamento è di pagare la cosiddetta decima, come è citato nella Bibbia diversa. È ovvio che quest'ultimo comandamento rappresenta una problematica più intensa per coloro che hanno maggiori entrate di denaro. Come diceva Gesù, è più facile che un cammello passa la cruna ad un ago che ad un ricco entrata nel regno di Dio. Il processo di purificazione del peccato significa essere guariti spiritualmente. Nel libro di Mormon, capitolo di 2 Nefi 2, versetto 6 e 7, il proprietà lei dice, la redenzione viene nel Santo Messia e tramite lui, poiché egli è pieno di grazia e di verità. Ecco, egli soffre, lo stesso, quale sacrificio per il peccato, per rispondere ai fini della legge, per tutti coloro che hanno un cuore spezzato e uno spirito conflitto. Per nessun altro è possibile rispondere ai fini della legge. Esiste un equilibrio tra misericordia e giustizia. La misericordia ha effetto sulla nostra anima attraverso benedizioni della nostra vita per l'obbedienza ai comandamenti, mentre la giustizia ha effetto attraverso maggiori sforzi per causa del peccato. L'espiazione di Gesù Cristo detiene il potere spirituale di liberarci dal peccato facilmente grazie ai nostri sforzi di obbedire ed avere un sincero atteggiamento sul pentimento nonostante siamo i perfetti e sbagliamo ogni giorno. Il progresso spirituale di migliorarsi giornalmente porta a cambiare pensieri, convinzioni e comportamenti che non sono in armonia con il Signore. Quando ci pentiamo sinceramente proviamo una tristezza secondo Dio, smettiamo di sbagliare e scegliamo il giusto. Il pentimento è un processo continuo di tutta la vita ed è lo scopo di questa vita, prepararsi a diventare puri per stare nella presenza di Dio. Esistono diverse parti distinte sul pentimento. Numero uno, riconoscere i peccati e provare rimorso o tristezza. Numero due, confessiamo i nostri peccati a Dio in preghiera avendo anche l'opportunità di poter confessare peccati più gravi ai dirigenti della Chiesa. Chiediamo a Dio il perdono. Numero tre, facciamo il possibile per riparare ai problemi che abbiamo causato. Numero quattro, non abbiamo più il desiderio di peccare e non lo ripetiamo più. Il desiderio di seguire Dio diventa più forte e solido. Per capire se ci siamo veramente pentiti, riconosciamo la pace che entra in noi grazie allo Spirito, liberandoci dai sensi di colpa, paura e vergogna. Ci sentiamo poi pronti di vivere con Dio. Durante la vita può capitare di peccare, bisogna rialzarsi e pentirsi senza procrastinare, cioè senza rinviare e di pentirsi. Bisogna farlo subito e continuare verso questa direzione. Il Signore riconosce ed apprezza i nostri sforzi sinceri e diventare come Lui l'obiettivo. La fede in Gesù Cristo e il pentimento ci preparano per le ordinanze del battesimo e della confermazione dello Spirito Santo. Che cos'è un'ordinanza? È una cerimonia o rito sacro che mostra che siamo entrati in alleanza con Dio. Cioè un'alleanza è come un contratto dove c'è il vincolo tra Dio che ci promette di benedirci. È noi che promettiamo di essere obbedienti. Per rispettare questa alleanza dobbiamo rinunciare alle attività ed interessi che potrebbero impedire di onorare l'alleanza stessa. Per esempio, per santificare il giorno di riposo della domenica rinunciamo allo shopping e alle attività ricreative. Le alleanze come il battesimo sono amministrate mediante l'attività del sacerdozio e il battesimo ci riveste i discepoli di Gesù Cristo. Lo confermiamo quando prendiamo il pane e l'acqua, cioè il sacramento, alla riunione domenicale, promettendo di ricordarci sempre di Lui e di obbedire ai Suoi comandamenti. mantenendo con costanza questo impegno avremo con noi la compagnia dello Spirito Santo costantemente e la revisione dei nostri peccati. Il battesimo rappresenta una nuova nascita. Come ci ha insegnato Gesù dobbiamo essere battezzati per immersione come Giovanni Battista lo ha battezzato. L'immersione è un simbolo della morte, sepoltura e risurrezione del Salvatore. Anormalmente rappresenta l'abbandono della nostra vecchia vita e la rinascita sull'impegno di vivere come discepoli di Cristo. Una volta battezzati diventiamo membri della Chiesa restaurata, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, e cioè ci qualifica ad entrare nel Regno dei Cieli. I bambini piccoli non hanno bisogno di essere battezzati fino all'età della responsabilità che è otto anni. Dopo che una persona è stata battezzata tramite immersione nell'acqua, uno più dentro del sacerdozio pongono le mani sul loro capo. La confermano a membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e conferiscono il dono dello Spirito Santo. Forse non ci accorgeremo subito dei suoi effetti, ma questo è un reale potere divino che ci accompagna per tutta la vita. Lo Spirito Santo porta testimonianza di Cristo, ci aiuta a riconoscere la verità, ci conforta e ci rende sicuri, ci rende umili e degni di insegnare. In base alle necessità della vita avremo da sviluppare il dono dello Spirito Santo in modo personalizzato. Per esempio, molti ragazzi americani che dedicano due anni di volontariato nel predicare il Vangelo imparano velocemente la lingua del luogo dove svolgono la loro missione, cioè imparano a sviluppare il dono dello Spirito delle lingue. Questa caratteristica dello Spirito Santo è unica di questa Chiesa ed è diversa da tutte le altre religioni esistenti nel mondo. La restaurazione della Chiesa di Gesù Cristo con il suo reale sferdozio risolve il grande problema dell'apostasia e rende chiara la conoscenza sul piano di salvezza spirituale. Quando si diventa membro della Chiesa di Gesù Cristo, le tentazioni della vita quotidiana possono trascinare ed è necessario perseverare nella fede ed il pentimento per tutta la vita, migliorandosi e progredendo verso la direzione della vita eterna. Grazie e a presto. Alla prossima. Grazie a tutti.